Grande partecipazione alla prima prova dello challenge Lucca Versilia, che era anche valida come campionato provinciale allievi. Era il 73esimo circuito versiliese, la corsa più vecchia della Toscana, organizzata dall'Unione Sportiva Pozzese e quest'anno intitolata alla memoria di Lelio Grossi, per 40 anni anima della società versiliese. 84 partecipanti per un percorso di 80 chilometri, tracciato nella zona di Pozzi di Seravezza. E' stata una gara molto combattuta ed avvincente, con le promesse del ciclismo toscano che si sono date battaglia sulle salite delle colline versiliesi. Alla fine lo scatto decisivo sulla salita della fortezza è stato quello di Mattia Bevilacqua dell'Unione Ciclistica Coltano-Grube Costruzioni, che è arrivato da solo sul traguardo di Pozzi, chiudendo la gara alla media di 39 chilometri orari e staccando di un minuto il gruppo degli inseguitori. Gruppo che è stato regolato da Clidi Iacu, del gruppo ciclistico Romagnano-Guerciotti, che ha preceduto il compagno di squadra Matteo Panava. Ottimo quarto posto per Lorenzo Ratto, dell'Unione Sportiva Monte Carlo Ciclismo, primo dei Lucchesi, che si è così laureato campione provinciale allievi. Bevilacqua ha invece indossato la maglia del vincitore della prima prova e quella di leader della classifica generale dello sciallaggio.